Per il decimo anno consecutivo, Cappa veste la Cappa Marathon, annuale competizione ciclistica organizzata dalla Tour in Marathon e intitolata quest'anno Gran Premio Città di Bardonecchia. Come hanno spiegato il 15 giugno nel corso della conferenza stampa nella sala multimediale di Basic Night, Paolo Fulgenzi, responsabile sponsorizzazione del gruppo, e Luigi Chiabrera, presidente di Tour in Marathon, per la prima volta si tratterà di una gara off-road in mountain bike e non più su strada. La Cappa Marathon 2012 prenderà il via domenica 15 luglio da Bardonecchia con due percorsi, Gran Sommelier 27 km dedicati ai più esperti e Gran François di 22 km. Per l'occasione a tutti i partecipanti la nuova Combat Cycling Cappa in tessuto tecnico leggero e confortevole, con vestibilità slim e con un nuovo design rosa che strizza l'occhio alla maglia nel giro d'Italia.